Sono stati annunciati dei cambi organizzativi, delle revisioni, insomma non c'è probabilmente ancora una decisione finale definitiva, ci sono ancora delle valutazioni in corso, però abbiamo scelto di rappresentare anche alla Regione alcune considerazioni. Si ipotizza l'inserimento, finalmente era previsto dal 1996 credo, la presenza di un medico nelle centrali operative 118, ma abbiamo letto dalle notizie stampa che si pensa una riduzione delle automediche a favore di ambulanze infermieristiche, di auto infermieristiche addirittura, che poi potrebbero essere diciamo teledirette dal medico della centrale operativa. Questo per il soccorso territoriale, noi abbiamo rappresentato che è necessario, è fondamentale per garantire i livelli di assistenza che sui pazienti critici intervenga un'equip avanzata completa e che quindi ci siano medico e infermiere e questi sulle automediche più l'infermiera dell'ambulanza perché i pazienti veramente critici hanno bisogno di un'intera equip che arrivi, quindi non è possibile pensare di sostituire un soccorso integrato con il telecontrollo da parte di una centrale operativa e bisogna mantenere un numero di automediche sufficienti a garantire due cose, la tempestività del soccorso sulle persone che hanno delle situazioni critiche instabili momentaneamente, ma non solo, la ridondanza, cioè nel momento in cui un mezzo di soccorso avanzato è impegnato perché magari sta trasportando da un territorio montano un paziente verso un ospedale cittadino, magari verso un'emodinamica per un infarto piuttosto che un politrauma per il percorso verso il trauma center, si garantisca che in una tempistica decorosa, diciamo ridondante, sia presente un altro mezzo di soccorso avanzato con l'equip completa e qui ecco dobbiamo intenderci su che cosa intendiamo per mezzo di soccorso avanzato perché dal punto di vista dei professionisti un mezzo di soccorso avanzato deve avere un'equip con medico e infermiere, devono essere presenti entrambe le figure perché nessuno da solo, come dire, può fare il mago di Oz e fare magie, bisogna avere entrambe le professioni integrate, che è esattamente quello che succede anche con gli elissoccorsi, cioè l'elissoccorso quando interviene ha solitamente due infermieri e un medico a bordo, quindi un medico addirittura anestesista e rianimatore di norma, ma non necessariamente. Quindi noi dobbiamo immaginare che comunque in queste revisioni che vengono ipotizzate venga mantenuta una ridondanza dei mezzi di soccorso avanzato e le equip siano realmente avanzate, quindi diciamo non il participio passato del verbo avanzare, cioè quello che rimane fondamentalmente. Che è una differenza importante, avete usato una parola molto pesante, sarebbe un'azione criminale tagliare le automediche, ci spiega intanto che cos'è l'automedica? L'automedica è un mezzo avanzato, appunto un mezzo di soccorso avanzato che comprende un'equip che di norma ha un medico d'emergenza formato e un infermiere di emergenza anch'esso formato per il soccorso avanzato. Le automediche che cosa fanno? Sono un mezzo molto intelligente perché hanno un tempo di arrivo sugli interventi che solitamente proprio per il fatto di essere più snelle, più agili, gli permette di arrivare certe volte anche prima, ma comunque l'automedica di per sé è un mezzo che arriva in appoggio alle ambulanze, per cui invece di avere le vecchie ambulanze medicalizzate dove tu ovviamente se andavi a soccorrere un paziente che poi era un falso allarme, diciamo così, era stato sovrastimato, avevi però una volta che eri in ambulanza l'onere di caricarlo e di portarlo fino all'ospedale, quindi mantenendo l'equip avanzata, impegnata per tutto il tempo. Molte volte i mezzi di soccorso avanzato arrivano, fanno le valutazioni, fanno l'eventuale terapia, ma non tutti i pazienti sono così critici da dove essere accompagnati da medico-infermiere fino all'ospedale. Magari vengono stabilizzati, vengono fatte le terapie o anche semplicemente le valutazioni escluse delle criticità grosse e poi possono proseguire con l'ambulanza. Quindi le automediche che cosa fanno? Vanno a potenziare la capacità di assistenza dell'ambulanza intervenuta. Vanno, fanno le valutazioni, fanno le eventuali terapie, prendono le decisioni rispetto a dove inviare il paziente e poi se c'è bisogno ovviamente lo assistono, lo accompagnano stabilizzandolo per tutto il tragitto, oppure possono indicare al mezzo di soccorso normale, diciamo l'ambulanza che può essere col soccorritore o con l'infermiere, gli dicono dove portare il paziente, con che modalità e con che termini. Ovviamente se il numero però di mezzi di soccorso viene ulteriormente diminuito, il numero di automediche viene ulteriormente diminuito, questo lavoro diciamo di valutazione dei pazienti sul territorio, di stabilizzazione e quindi di appoggio alle altre ambulanze diventa sempre più complesso e noi abbiamo un territorio molto vasto, abbiamo la pianura che è un territorio paradossalmente diciamo più vasto ma almeno per la viabilità spesso più semplice, poi abbiamo il territorio appenninico che invece è un territorio estremamente complesso e la cui viabilità soprattutto spesso cambia, cambia in ragione delle condizioni meteo, cambia in ragione delle frane che tutte le volte sentiamo appunto nei telegiornali ogni due per tre purtroppo per il problema di sesto idrogeologico e non possiamo nemmeno pensare che una riduzione delle automediche sia compensata dagli elicotteri, perché gli elicotteri sono legati al meteo, sono legati alla effettiva capacità di volare e soprattutto dove possono realmente atterrare, perché non è che atterrano diciamo di fianco a casa, dipende dal territorio, dipende dal posto e dipende dal meteo, quindi lo stesso decreto 70, quello che regola gli standard dell'assistenza ospedaliera dice che l'elissoccorso è un mezzo integrativo a quelli su gomma e che invece non è sostitutivo degli stessi, perché? Perché deve intervenire in quelle situazioni più complesse, magari con una logistica territoriale più complessa per far sì che il paziente possa essere trasportato poi magari in tempi brevi verso un ospedale di riferimento cittadino. L'ultimo, le mostro questo titolo pubblicato pochi giorni fa da fanpage, personale, liste d'attesa e cronicità, le priorità per il sistema sanitario ignorate nella manovra. In manovra il governo ha stanziato oltre 2 miliardi di euro per il sistema sanitario nazionale, ma la maggior parte di questi soldi se ne andrà sul contrasto al caro bollette, perché appunto i costi sono aumentati. Non è chiaro in che modo verrà utilizzato ciò che rimane. Siete preoccupati per un governo che non ha stanziato sufficienti risorse per la sanità? Ma guardi, il problema in effetti, cioè non è che non ci sono risorse, le risorse stanziate vengono tutte assorbite dall'aumento dei costi, i costi di energia ci hanno dato l'ammazzata finale in ordine temporale, perché il problema è questo, che addirittura credo che il saldo fosse di 2 miliardi ulteriori, ma da quello che ho letto circa 1,4 sarebbero riassorbiti dai maggiori costi, per cui sta diventando una situazione estremamente problematica, perché indipendentemente dal numero di risorse immesse pare che questi arrivino, ma vengono praticamente evaporino al sole, per motivi che non sono legati all'assistenza. Non è che abbiamo dei costi perché i contratti del personale, piuttosto che le attrezzature che sono state acquistate sono incrementate nei costi, no? Perché semplicemente i costi di gestione ordinaria di quello che non riguarda le spese del personale e che non riguarda le spese di materiale, attrezzature, strumenti, è diventata insostenibile, questo è il vero problema. Sì, da un certo punto di vista siamo preoccupati, siamo preoccupati soprattutto per la tenuta del personale, perché ovviamente il personale è allo stremo, è allo stremo in tutti i servizi, in particolare in quelli d'emergenza e quindi stiamo proponendo di fare delle rivalutazioni, soprattutto per riorganizzare il territorio, dandogli quegli strumenti di lavoro e dandogli la possibilità di intercettare quantomeno una grossa parte dei carichi che oggi finiscono per forza in ospedale con tutti i costi conseguenti.